Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mister Auto. La spedizione è gratuita! Per azzerare il pannello del cruscotto, il motore deve essere spento. Accendi l'auto senza mettere in marcia. Usa il selettore alto del comando per tergi cristalli e sfoglia il menu del computer di bordo fino ad arrivare al messaggio di revisione. Tieni premuto il pulsante. Nel giro di qualche secondo, il messaggio di revisione comincia a lampeggiare. Tieni premuto finché non torna fisso e non mostra il nuovo chilometraggio di revisione. Operazione conclusa. Grazie a tutti!